Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova settimana di trading. Cinque giorni di negoziazione ricchi di eventi per Wall Street hanno caratterizzato la scorsa settimana, dove abbiamo visto il benchmark dell'SP500 che ha registrato guadagni settimanali consecutivi. Perché il sentiment è stato aiutato da una Fed, che comunque è stata più accomodante del previsto su questa decisione politica monetaria di mercoledì, dove sappiamo ha lasciato i tassi invariati, però insomma quelle parole sono state più rasserenanti e questo è piaciuto ai mercati. E poi da un rapporto sui salari dei settori non agricoli significativamente più interessante del previsto pubblicato venerdì e quest'ultima pubblicazione è stata anche questa apprezzata dagli investitori perché comunque si è vista una resilienza del mercato del lavoro, che comunque era una delle principali preoccupazioni della Fed. Grazie a tutti.